Non è solo una storia di Milan, è la storia di un uomo, di calcio e non solo, che ha contribuito a scrivere, o forse ha scritto, le pagine più belle di questo sport nel nostro paese. Pagine che sono state raccontate e sono racchiuse in questo libro. C'è solo un presidente che Carlo Pellegatti con Peppe Di Stefano ha scritto e ha racchiuso. Ciao Carlo. Buon tutto, buon Silvio Berlusconi, buon libro C'è solo un presidente. Sicuramente, la Cairo editore in occasione del primo anniversario della scomparsa del presidente ha detto ma perché non così ricordiamo, riviviamo il Silvio Berlusconi, non solo presidente del Milan, non solo amante del calcio, ma proprio i suoi inizi da piccolo, quando ha cominciato ad andare a San Siro con Fedele Confaronieri, con il suo papà, poi ancora quando è diventato a 36 anni ha avuto l'esperienza della sua prima presidenza nel Nord e poi a poco a poco l'inizio della televisione e poi tutta la sua storia con tanti aneddoti. Con Peppe Di Stefano abbiamo, bah, avremmo sentito, non so quante, non abbiamo contate, ma almeno un centinaio di testimonianze dai suoi amici più cari, come Fedele Confaronieri, come Marcello Dell'Utri, come Adriano Galliani che poi è diventato protagonista della sua vita ed è stato praticamente rimanere con presidente Berlusconi, ci abbiamo messo due o tre mesi che è stato abbastanza veloce, due o tre mesi abbiamo rivissuto tutte le emozioni che Silvio Berlusconi ha dato a me personalmente, visto che lo conoscevo, a tutti i tifosi del Milan e a tantissimi italiani. 223 pagine che racchiudono davvero una storia irripetibile, tu facevi riferimento alle testimonianze, ci sono anche dei virgolettati. Guarda, uno mi piacerebbe, te la vado, leggila tu perché no, 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 perché se tu... Tu me la trovi e io la lego. Sì, a me piace tanto, guarda, non l'abbiamo sì, eccolo qua, perché poi è anche una lezione per chi volesse fare comunicazione. Esatto, perché mi stai indicando Carlo Freccero e quindi lui voleva essere sempre un vincente, questo sì era molto americano, nelle mie lezioni di televisione ripetevo sempre che l'ausiliare del verbo americano è do, fare, mentre quello italiano è essere, e questa è la differenza tra America e Europa. Berlusconi è l'uomo del fare vincente, è il suo vangelo, è il suo piano editoriale, fa e vinci. Ecco, mi sembra che questa sia proprio una delle tante sintesi. Carlo Freccero l'ho sentita in una puntata di Netflix, stato il giovane Berlusconi. Mi è proprio rimasta impressa e l'ho voluta mettere, proprio perché anche questa cosa che il museo è du, le noiesse, a me è molto colpito. Questa è la copertina del libro, ve la faccio vedere. La Coppa di Atene, l'ultima. La Coppa di Atene, assolutamente, ritratto di un sognatore, accompagnato anche i tuoi sogni, Carlo, da collega giornalista, da tifoso del Milan. Io ti farei vedere, tra l'altro racconto questo aneddoto ai nostri telespettatori, ero io il cameraman di quel video, è stato un onore perché la tua ultima intervista a Silvio Berlusconi, a Lugano, in occasione di un evento commerciale. Silvio Berlusconi omaggia così la tua straordinaria carriera al fianco del Milan, di Silvio Berlusconi non solo. Vediamo. Io vorrei che il Monza prima cominciasse a giocare come noi vogliamo che giochi, che riteniamo sia qualcosa che si ottiene con degli allenamenti impegnativi. Quindi quando riteneremo che il Monza sia in grado di non sfigurare di fronte a una squadra di Serie A importante come il Milan, chiederemo al Presidente del Milan la possibilità di un amichevole. Io la ringrazio molto per questo video. Si immagini grazie a lei e complimenti anche per la passione, non solo per la professionalità con cui lei sta seguendo da 50 anni ormai il mondo del calcio. La ringrazio molto. E questo è lo mangio. Sì, mi hanno sempre commosso queste parole di Silvio Berlusconi. Ne ricordo un altro episodio che mi lega sempre a delle belle parole nei miei confronti. Dopo la vittoria di Yokohama, l'ultima al Mondiale, il Milan è diventato campione del mondo. Silvio Berlusconi era ospite degli studi di Mediaset con Sandro Piccinini. hanno fatto sentire le mie esultanze dopo i gol di Inzaghi, di Nesta, della finale. E lui ha detto che Carlo Pellegatti è sempre stato un valore aggiunto per il nostro Milan. E sono parole che mi hanno sempre onorato, che mi hanno sempre emozionato. e il presidente Berlusconi è sempre stato molto sincero, anche nei miei confronti in generale. Era una persona molto vera e quindi quando diceva queste cose non erano giusto per educazione, ma le sentiva. Quindi ti ringrazio per questa testimonianza. C'è solo un presidente non è un titolo casuale, è un titolo che richiama un omaggio. Se vogliamo che tanti presidenti hanno ricevuto nella storia del calcio come coro da parte dei tifosi, è stato l'ultimo coro che ha ricevuto dai suoi tifosi. È stata un'occasione particolare anche perché erano milanisti e monzesi insieme. Ed è stato questo coro qui, in questa occasione speciale. L'ultimo saluto al presidente. Un presidente, è solo un presidente, è solo un presidente. E' da brividi perché questo è il coro che ha accompagnato, è stato l'ultimo saluto al presidente perché eravamo il giorno del funerale, è stato il coro che è risuonato nel cielo di San Siro in tante occasioni. E un anno prima, nella stessa location, partiamo dal fondo, Silvio Berlusconi si affaccia perché lui con Marta Fascina ha voluto partecipare alla festa dello Scudetto appunto nel 22 maggio, quindi era il giorno dopo, il 23 maggio del 2022. Ebbene si è affacciato alla Rengario. Se la sentiva sua quella vittoria. Se la sentiva sua. Lui, una delle ultime telefonate, è stata a Stefano Pioli raccomandandosi, mi raccomando la partenza dal basso, andate su Leao, non perdete del tempo. Quindi parlava con Stefano Pioli come se fosse il suo allenatore. Va a la Rengario e dopo aver salutato ovviamente i giocatori, si affaccia e c'è il coro, c'è un presidente, c'è solo un presidente. E anche se la teniamo alla fine della trasmissione, cosa successe in quella sera? E lo leggiamo dal mio libro, alla sera alla Rengario il 23 maggio. Ecco, assolutamente Carlo, perché poi la storia meravigliosa di questo presidente è che c'è sempre un filo comune in tutto quello che ha fatto tra tutti gli avvenimenti della sua straordinaria carriera, in questo caso da presidente di un club di calcio. La sensazione, immagino che l'avrai provata tu nei tuoi anni di carriera e tu e Peppe sentendo le testimonianze per raccogliere e per confezionare questo libro, è che questo per Silvio Berlusconi non fosse soltanto un coro, ma fosse un sentimento che tutti quelli che lo hanno avuto come presidente, lo hanno conosciuto da giornalista a dirigente, ecco, che lo sentano dentro questo coro, questo c'è solo un presidente. All'inizio il coro c'è solo un dottore, perché? Perché agli inizi della sua attività televisiva, imprenditoriale a livello dell'edilizia, tutti mi dicevano, aveva delle idee impossibili, eppure te le faceva pensare possibili e si realizzavano. Quindi c'è solo un dottore. Allora io anch'io, quando parlavo in intervista lo chiamavo presidente, ma quando lo salutavo ancora gli ultimi anni, perché io l'ho conosciuto come dottore, lui era chiamato il dottore, e anche all'inizio della sua attività proprio trascinava. Pochi sanno, esageriamo, che l'inventore delle telefonate, delle call, è stato Silvio Berlusconi. Perché dico questo? Sì. Perché costruisce, come dice Adriano Gagliani, gli altri costruivano le case e lui costruiva la città, gli altri costruivano una televisione, lui faceva un network. Ebbene, cosa succedeva? A Segrate le case erano collegate col cable, cioè già coi fili, c'erano già dei collegamenti. Perché? E lui diceva, signori non voglio che partecipiate alle noiose riunioni di condominio, io vi metto in collegamento tutte le case, praticamente una call. C'era l'amministratore e tu, quindi, diciamo in maniera un po' forzata, le prime telefonate via call, call le ha proprio inventate Silvio Berlusconi. È chiaro che la sua storia calcistica si è legata ad Adriano Gagliani, con cui ha un primo incontro nel novembre del 79, e poi nasce, con Silvio Berlusconi e Adriano Gagliani, il Milan capace di diventare il club più titolato al mondo. Dopo un travaglio, sì? Perché? Dimmi dove vuoi arrivare. Il travaglio nella decisione di prendere Mila. E allora, perché questo è il primo passaggio, il primo aneddoto storico da cui voglio partire dopo la pubblicità, perché il Milan, club più titolato al mondo, nasce in cielo. Ripartiamo da lì. Dicevamo, il Milan nasce in cielo. Siamo nell'inverno del 1985. Dicembre 85 e gennaio 86. Che cosa succede nel novembre? Siamo a St. Moritz. Passettino indietro. Andiamo un po' indietro. Perché il Milan aveva i libri in tribunale. Ah, certo. Perché Farina lascia il Milan, in situazione difficile siamo con eufemismo. Certo. Milan eliminato dal Waregem. Perdiamo 2-1. I tifosi sotto la tribuna. Farina capisce che ormai la situazione è ormai non più controllabile. E incomincia a esserci la voce Silvio Berlusconi potrebbe essere interessato al Milan. E allora inizia il travaglio. Perché? Fedele con Falonieri erano per il sì. Adriano Galliani che era dirigente del Monza gli diceva attenzione. E poi arriva Paolo Berlusconi che gli dice era lui quello che doveva andare il fratello a vedere i conti e gli dice qui è una questione di cuore perché se devi pensare al portafoglio non sappiamo neanche andando dentro a vedere che cosa può succedere. Allora c'è il travaglio ne parlano ai primi giorni dell'86 a St. Moritz e parte questo aereo che doveva tornare a Milano. Allora il presidente Berlusconi si isola. Qui siamo in cielo. Siamo in cielo, guarda il Bernina ci sono le montagne della valle. Su quell'aereo quattro persone. Esatto. C'era Fedele con Falonieri, Adriano Galliani c'era Silvio Berlusconi e c'era anche mi sembra Dell'Utre. Marcello Dell'Utre. Marcello Dell'Utre. E lui non parla. E nessuno parla. E pensa. Perché avevano parlato a St. Moritz nella sua villa su Vretta che era stata della Gacan. Lui la comprava. Se non erro, Carlo a St. Moritz St. Moritz era anche residente invernale della famiglia Agnelli. Agnelli si incontravano. E quindi c'era già quest'aria di non dico di derby però di vi faccio vedere. E poi ricordami che devo dirti una cosa che riguarda Moratti. Va bene. E allora il presidente pensa, guarda quando l'aereo sta per atterrare si alza e dice lo prendiamo. e gli altri si abbracciano. Ma Adriano Galliani dice ma io sono anche dirigente sono vicepresidente mi sembra del Monza. Si dimetta. E l'ha chiusa così. E lì loro si sono abbracciati su quell'aereo mi sembra fosse il 4, il 5, il 5, il 6 di gennaio dell'86 è una delle prime nascite perché ce ne sono tre di nascite. Questa è la prima. Quindi poi io vado insieme ad Alberto Cerutti il 17 gennaio mi sembra che si giocava a Milan in Fiorentina per Tele Lombardia con il microfono da Paolo Berlusconi. Ma è vera questa notizia? Ci stiamo pensando. E sono tornato a Tele Lombardia con la notizia per intervistare. Poi c'è il 20 febbraio quando il Milan il presidente Berlusconi compra il Milan ma poi Milan lo compra diventa presidente un mese dopo ma ricorda tu quando Adriano Gagliani è una tese di Adriano Gagliani secondo me assolutamente vera e condivisibile quando nasce il vero Milan di Silvio Berlusconi? Lo chiedi tu a me. Lo chiedo io a te perché anche tu volevi essere là al castello di Pomerio il primo luglio 86. Ma prima c'è il 18 luglio dell'86. Un'altra grande parentesi. Un'altra grande parentesi. Quando ti devo raccontare anzi ricordare di Moratti? Ci penso anch'io. Allora cosa succede? Silvio dopo fai vedere Silvio Berlusconi dice a Paolo Taveggia il direttore organizzativo vogliamo delle cose nuove. Sì. vogliamo che i tifosi ricordino questo questo raduno di solito era raduno a Milanello e allora decide e allora decide di fare quello che è il Corriere dello Sport Franco Ordine bravo perché aveva nascosto a tutti che cosa volesse fare. Franco Ordine che tutti conoscete che noi conosciamo che è ospite delle nostre trasmissioni esce in prima pagina sul Corriere dello Sport con questo titolo arriva in elicottero raduno hollywoodiano all'arena i giocatori il rompe il Milan sì perché i giocatori erano già tassotti erano terrorizzati dall'elicottero dal volo in generale ed era un brutto tempo c'era il temporale e allora però Adriano Gagliani dice scusate Silvio Berlusconi dice a Paolo Taveggia quando stanno per atterrare fai partire la cavalcata delle valchirie to 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 e quindi parte la cavalcata i tifosi impazziscono certo siamo all'arena di Milano immaginatevi voi tra i palazzi oddio non c'erano ancora parco però nel centro nel cuore della città scendono due elicotteri scendono due elicotteri e atterrano sul campo dell'arena nasce il Milan di Silvio Berlusconi è vero che ha più nascite più date di nascita il Milan di Silvio Berlusconi che sin da subito ha avuto lo chiamo imprinting visionario lui adesso è rinata la Silvio Berlusconi editore da qualche giorno l'ha annunciato Marina Berlusconi con una bella intervista qualche tempo fa al Corriere della Sera e che cosa succede? Silvio Berlusconi fra i primi libri e sul suo comodino da notte ce l'ha sempre l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam abbiamo detto ritratto di un sognatore ma lui fa e vince come diceva Freccero cioè i sogni li realizza cioè e lui realizza i sogni e quindi dice al castello di Pomerio tra il sorriso quasi così incomprensibile la gente più che tifosi gli stessi giocatori i giocatori ma eravamo diceva Tassotti con le pezze al sedere fino a qualche tempo fa non prendevamo quasi gli stipendi e lui dice che in tre anni vinciamo campionato coppa dei campioni e coppa del mondo vincendo e convincendo e la gente impazziva tra l'altro la follia la sana follia che poi è in realtà essere visionario è aver scelto per questa missione Carlo un allenatore che ancora non aveva conosciuto non solo il grande club oggi diciamo ma sarà abituato alla pressione del grande club anche chi fa bene in Serie A Arrigo Sacchi non conosceva ancora la Serie A la fortuna di Arrigo Sacchi e del Milan è stata la mano che ha sorteggiato io chiamo la balotera cioè dove c'è le palline che ha sorteggiato il Milan in Coppa Italia e lui vede questo Parma che gioca in maniera straordinaria e anche nel turno dopo quando lo elimina allora a Parma va con i suoi collaboratori fa venire i Sacchi davanti a un piatto di culatello e di tortelle ed erbetta e dice fra un po' vi presento il nostro nuovo allenatore poi però non è ancora finito tutto allora lo anche grazie all'aiuto di Ettore Rognoni molto amico di Arrigo Sacchi lo incontrano un lunedì o un martedì mi sembra ad Arcore e dietro il libro leggi cosa successe eh sì ve la faccio vedere guarda ve la mostro anche perché è riportata guarda intanto io la leggo 3 marzo 1987 la cena è servita a Villa San Martino si chiacchiano amabilmente di calcio fino a tardanotte ospiti di Silvio Berlusconi Arrigo Sacchi allenatore del Parma il fratello Paolo Confanonieri Dell'Utri Galliani ed Ettore Rognoni proprio a uno dei suoi ospiti si rivolge il dottore dopo aver accompagnato Sacchi alla porta come ti sembra? mi sembra matto appunto esclama soddisfatto Berlusconi è per questo che lo prendiamo mi sembra matto e qua è sono due follie che si uniscono e vanno a comporre una una favola perfetta è un problema subito all'inizio il Milan eliminato dell'Espagnol Arrigo Sacchi telefona Silvio Berlusconi e dice ho bisogno di lei allora vengo parla con i giocatori è durato qualche una trentina di secondi e lui dice chiaramente alla squadra poi lì ci sono le parole esatte dentro il libro chi segue Arrigo Sacchi per noi il nostro allenatore chi ci crede lo segua altrimenti ce lo dica e se ne va pochissime parole e da lì ha preso il via ancora una volta più rafforzata all'esperienza di Sacchi perché non era facile per Arrigo Sacchi avventurarsi letteralmente in questo Milan che da zero voleva arrivare subito al tetto del mondo anche perché Silvio Berlusconi imprenditore illuminato visionario e attento a ogni minimo dettaglio ma anche quello che voi non immaginerete tra poco ci arriviamo parliamo di extracampo ma lui era molto attento anche agli aspetti tattici si è sempre fatto trovare pronto preparato e aggiornato sulle vicende di campo dai giocatori ai moduli ai metodi lungo tutta la sua carriera calcistica lungo tutta la sua carriera calcistica dall'Aedil Nord perché anche all'Aedil Nord dove la sua squadra aveva già un pullman erano gli allievi che giocavano gli allievi il pullman tutti la divisa tutti precisi e aveva già una cosa che l'ha sempre irritato e mi trova assolutamente con lui il corner battuto non direttamente e il suo sogno era diceva gli allenatori per cortesia voi tenete un blocco di giocatori in area un altro blocco fuori appena parte la palla deve esserci questo movimento perché così o vi fanno il rigore o vi creano dei problemi e quindi per intenderci Carlo scusami se ti interrompo il gol di Caldirola in Inter Monza San Siro stagione 22-23 il giocatore che parte dal limite dell'area di rigore arriva in corsa a colpire di testa con la fronte e fa gol ecco quello è il corner più berlusconiano che ci sia del mondo esatto quindi la partenza dal basso voleva che si lanciasse subito ma il corner era una delle sue delle sue delle sue manie me lo diceva anche Umberto Gandini che è stato a lungo dirigente del Milan proprio lui su questo punto batteva sempre batteva sempre perché non non voleva la palla che ballasse velocità velocità abbiamo tre storie di Milan da raccontare il Milan degli invincibili il Milan degli immortali il Milan dei meravigliosi tutte storie straordinarie e vincenti soprattutto certo e poi quando per esempio accoglieva ha accolto uno dei giocatori degli invincibili come Papin cosa ha fatto Papin arriva a casa a Villa San Martino e sente se si bon na 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 lui è al pianoforte per accogliere Papin ecco questo è questo è il modo migliore Carlo per per dare un attimo la linea alla regia e ripartire invincibili immortali e meravigliosi sono tre grandi capitoli del Milan che Carlo Pellegatti ha vissuto che Carlo Pellegatti con Peppe Di Stefano ha racchiuso nel nel libro che stiamo introducendo e che stiamo raccontando attraverso la vita calcistica inimitabile di Silvio Berlusconi tra poco tre storie di Milan tre definizioni ma un denominatore comune la vittoria la storia anche di recente Zlatan Ibrahimović ha detto al Milan non si vince al Milan si fa la storia e questa definizione di Zlatan Ibrahimović arriva da lontano arriva per esempio dal Milan degli Immortali che è quello che abbiamo visto nascere con Arrigo Sacchi e che passa da due date dal maggio dell'89 e dal 17 dicembre dello stesso anno quando il Milan prima raggiunge la vetta d'Europa poi a Tokyo diventa campione del mondo come Silvio Berlusconi aveva chiesto e detto al Castello di Pomeri certo e dicono che sia l'immagine più sorridente felice di Silvio Berlusconi sembra che sia proprio quella di Barcellona dopo la vittoria con lo Steaua mi hanno detto che mai l'hanno visto così felice così contento così conscio di quello che ha costruito 24 maggio 1989 la Rambla di Barcellona che sembra Viale Caprilli a San Siro quando gioca in Milano sì certamente grazie al lavoro di leggete come il Milan è riuscito a prendere 80 mila biglietti grazie al lavoro di Paolo Taveggia che a un certo punto chiama Silvio Berlusconi Presidente ma mi servono mi sembra due o tre tre miliardi o due mi servono due miliardi per dare subito al Barcellona al UEFA per avere i biglietti domani arriva il bonifico per pagare i biglietti ovviamente due casse in piena di biglietti e Silvio Berlusconi ha detto ti mando l'aereo per prenderle perché non poteva andare in frontiera con due casse di biglietti quindi questo è un altro un'altra delle sue dei bei racconti degli aneddoti poi la gioia e lui ha voluto ha quasi lui ha fatto aprire l'aeroporto di Linate veniva giù una neve tremenda quella sera del dicembre dell'89 il Milan festeggiava alla maniera splendida i suoi 90 anni arriva l'aereo lui ha voluto andare sulla scaletta e scendere con la coppa del mondo quindi un altro dei momenti iconici del Milan degli immortali la squadra che è stata definita non da me sarebbe stato troppo facile dalla FIFA la squadra di club più forte della storia era così anche raccontarla seguirla ci si accorgeva che c'era qualcosa abbiamo raggiunto dei vertici di gioco della perfezione chiaro che qualcuno sai che si va sempre a cercare delle cose sì ma ha vinto poco in Italia poteva vincere cioè era una squadra la perfezione porta al manicomio il Milan quindi non è stato perfettissimo però era un Milan che raggiungeva dei vertici la gente andava a vedere il Milan tifosi del Milan e non tifosi del Milan dagli immortali agli invincibili perché altra genialità altra intuizione perché chi va a prendere un allenatore che aveva allenato cinque partite nell'87 cinque volte e aveva vinto pure lo spareggio con la Sampdoria eppure eppure Silvio Berlusconi ha detto diventerà bravo come Rocco parlando di Fabio Capello e allora il Milan degli invincibili il Milan che ha raggiunto anche lì sempre degli episodi particolari nel giorno della proclamazione di lui praticamente presiede del Consiglio nel 1994 in quella sera il Milan senza Costa Curta senza senza Baresi vince una delle continuano a dire che è la partita del secolo non so mettiamola dentro anche lei ma è una delle partite che hanno portato il Milan nella leggenda il 4 a 0 sul Barcellona 4 a 0 al Barcellona 159 voti favorevoli al Senato per Silvio Berlusconi che ottiene la fiducia perché poi senza addentrarci in discorsi politici ma lui nel frattempo fa anche questo cioè fonda un partito va alle elezioni e vince e quella notte era costante il collegamento da Atene a Roma tra Adriano Gagliani e Silvio Berlusconi che ha gioito che ha gioito due volte in quella in quella notte e arriviamo ai meravigliosi siamo partiti dagli immortali siamo passati dagli invincibili arriviamo ai meravigliosi che vincono subito la Coppa la Champions League con Berlusconi presente alla ultima riunione tecnica e gli dice Carlo Ancelotti venga l'ultima riunione prima della finale contro la Juventus lui va non dice una parola sta zitto ascolta e allora gli dice alla fine Carlo Ancelotti presidente come sono andato non male ma io avrei fatto meglio ha sempre avuto questo questo diciamo così questa voglia di avere è uno degli eroi è Scevicenco che il Milan ha rischiato di perdere quattro volte è arrivato nel 99 Scevicenco nel 2001 c'è la finale c'è la finale a San Siro tra il Valencia e il Bayern c'è la finale di Coppa dei Campioni e c'è Florentino Perez a Milano a Milano a Palazzo Marino il pranzo di gala gli dice senti senti Adriano c'è Adriano Gagliani dovrei andare a spendere così eh 150 milioni per andare a prendere 150 milioni penso sì era il 2001 credo che milioni o miliardi non lo so forse era ancora in lire miliardi per andare a prendere Zidane io volevo riposare oggi non ho voglia di andare a Torino a prendere Zidane ma non mi vendi Scevicenco allora Silvio chiama Silvio Berlusconi Gagliani chiama Berlusconi non se ne parla nemmeno è stato un po' forse il giocatore con cui ha avuto il rapporto più lo chiamo paterno sì esatto perché non dobbiamo dimenticare che ha aiutato il padre a uscire da una situazione di salute piuttosto pesante poi ci ha provato Abramovic Abramovic anche lui ci ha provato l'ha portato sul suo elicottero e Adriano Gagliani racconta io arrivo sulla nave a largo di Portofino di Abramovic e quando sto atterrando con l'elicottero perché per noi è la macchina l'elicottero vedo una ventina di sommozzatori tutti intorno allo yacht e dice scusate dice poi Adriano Gagliani ma tutti e beh se ci fosse stato un incidente sarebbero intervenuti cioè capito Abramovic e leggenda racconti che in quel pranzo non solo Gagliani blinda Shevchenko ma che poi Gagliani una volta sceso da quella nave ha avuto bisogno di mangiare qualcosa perché era stato un pranzo a base di Shevchenko e non era propriamente sazio non era sazio Abramovic che non aveva avuto Shevchenko ed era un pranzo particolarmente leggero per non dire altro analogie tra questi tre Milan Carlo immortali invincibili meravigliosi il Firouge è sempre stato Silvio Berlusconi e vai a leggere che cosa è successo alla il Milan raggiunge ancora il Milan l'ultima Coppa dei Campioni nel 2007 allora succede un fatto particolare leggi tu queste righe domani è quella lì no grande festa dalla grande festa dalla grande festa nell'albergo perché potete immaginare io l'ho letto ed è veramente se vuoi te lo leggo vuoi che lo lega io che magari lo conosco puoi leggerlo tu volentieri no 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 lo leggo volentieri io così lo scopri stavo dicendo da casa che è un insieme di aneddoti che di virgoletati perché lì parla di Moratti e poi gli dico una cosa di Moratti grande festa sentite quello che dice Moratti perché è una cosa che nessuno sa tra l'altro allora colgo un attimo l'occasione per dire questo ci sono ovviamente libro suddiviso in capitoli un capitolo il numero nove si chiama Forza Inter perché lui lo scrive a Ernesto Pellegrini e c'è anche il documento originale guarda noi ci divertiamo vai sì capitolo nove allora capitolo nove pagina 103 la lettera di Silvio Berlusconi a Ernesto Pellegrini a Ernesto Pellegrini vi anticipo la firma tuo Silvio se non erro sì perché erano molto amici i due eccola qui carta intestata del presidente c'è la data Pellegrini esatto eccola qui vediamo se riesco eccola grazie grazie alla regia e guardate là c'è un bel qua qua eccolo qua Forza Inter Forza Inter esatto per lui lo sport arrivava prima di ogni Milano Milano sì Milano una volta si è arrabbiato col fratello Paolo che era un po' contento per la sconfitta dell'Inter no no Milano lui milanista qualcuno diceva che era interista una sciocchezza ma Milano e guarda l'analogia con il presidente Moratti poi ne parliamo grande festa nell'albergo della squadra ma qualcuno nota lo sfondo di un sentimento malinconico avvolgere l'animo di Berlusconi quasi si rendesse conto di essere arrivato alla fine di un'avventura vincente la leggera mestizia che avvolge i momenti felici della vita quando raccontiamo al presidente Massimo Moratti quelle strane sensazioni alla fine di un meraviglioso trionfo ci confessa che sono state le stesse vissute nella serata del triplete è strano incredibile quello che state raccontando perché nella felicità della sera del triplete c'era qualcosa che anch'io non riuscivo a decifrare veder felici gli altri sapere che io avrei dovuto essere il più felice ma forse mi stavo rendendo conto anch'io come Silvio ad Atene che non stavo godendo fino in fondo di quel momento pure bellissimo la felicità certamente c'è ed è palpabile ma non quanto forse mi sarei aspettato mi sentivo quasi inadatto al momento una sensazione indefinibile attenzione no non durante la partita ma solo alla fine come se fossi capitato lì per caso l'avevo legata al fatto mi lasci sorridere che la coppa non era così pesante come immaginavo come squadra vincitrice della Champions League il Milan partecipa alle finali della Coppa del Mondo e poi si va avanti ecco proprio e proprio Moratti ci confessa questo suo sentimento Moratti che aveva incontrato Silvio Berlusconi al Savini abbiamo tempo o c'è pubblicità possiamo andare? abbiamo tempo perfetto incontra il presidente Berlusconi quando non era ancora presidente lui Moratti e chiede al presidente parlano senti ma cosa costa essere il padrone di una squadra di calcio e lui Berlusconi gli dice una cifra e Moratti pensa ma questo ha esagerato e poi dopo tanti anni nel mio libro commenta aveva ragione e guarda vai a leggere Moratti molto bello perché ci tengo ecco qui è sotto un ordine alfabetico quello che dice Moratti del presidente Berlusconi a dimostrazione degli uomini ecco era portato essere cortesissimo e a parer mio non soffriva per le vittorie degli altri mi sembra proprio che l'invidia non gli appartenesse anche per le qualità e i successi che aveva ottenuto nelle sue attività quindi c'era una grande stima ne parlava proprio il presidente Moratti ne parlava con grande emozione ha detto che gli ha ricevuto subito i complimenti per il triplete quindi era la Milano da bere di quegli anni insomma senza andare nel passato perché poi ci dicono anche perché Silvio Berlusconi bambino con papà Luigi aveva la tessera di Milan il papà Luigi lui andava a vedere il Milan ma il papà Luigi Milan e Inter la domenica era andare a San Siro quindi poi ovviamente erano tifosi del Milan ma la domenica e poi con fedeli confalonieri giocavano all'oratorio facile pensare chi fosse Nordal e Tognon quindi Nordal era Silvio Berlusconi e Tognon che era un bel difensore centrale famoso in quegli epoca era fedele confalonieri e quindi loro giocavano uno era mentre nella squadra Paolo Berlusconi alla velocissima alla velocissima mi ricordo la più recente giocata anzi l'ultima giocata col pallone di Silvio Berlusconi che accoglie l'Università delle Libertà ex Villager Netto il Monza e lui si mette a palleggiare con con il pallone che tra l'altro custodiva nell'intervista che abbiamo visto prima lui custodiva un pallone che portava la sua firma e il logo del Monza non si vede magari non te lo ricordi ma su quel divanetto c'è e a causa del Monza sono raffreddati gli spaghetti mentre mangiava Adriano Galliani e perché abbiamo parlato di un filo che collega tutto alla fine e questo filo che collega Silvio Berlusconi il calcio il Milan arriviamo anche i giorni nostri perché c'è uno spaghetto che è rimasto arrotolato e si è freddato attorno alla forchetta ma c'è anche un nome quello di Alessandro Nesta che riguarda anche i giorni nostri tra pochissimo dicevamo successi che passano attraverso la perfezione sul campo e non solo lui guardava i capelli guardava la barba atterrava col suo elicottero a Milanello e stava attento a ogni ramo di Milanello delle piante parlava sempre con Peloso andava a vedere le piante Antore Peloso Antore Peloso direttore di Milanello arrivava veniva accolto da Ramaccione da Peloso e Milanello lui dice una volta ha dormito a Milanello è stata la notte più bella della mia vita ha detto sì era la vigilia di Milan Verder Brema ah ecco bravo proprio in quella partita e quindi per lui Milanello e quando andava a Milanello il pilota dell'elicottero che abbiamo intervistato Luciano Facchetti voleva che passasse sempre davanti sopra scusate alla chiesa di Oltrona San Mamette perché lui voleva vedere la chiesetta perché a Oltrona San Mamette lui era sfollato insieme alla mamma e lui ha un ricordo bellissimo e una volta si è fatto portare giù perché lui si ricorda quando il papà anche lui sfollato in Svizzera è arrivato lui è andato alla stazione di Oltrona San Mamette aveva nove anni e ha incominciato a riempire di baci il papà e allora lui voleva sempre passare sopra la chiesa di Oltrona San Mamette il suo ultimo scudetto lui ha in Zlatan Ibrahimović il suo acquisto più importante quello che scatena di fatto l'entusiasmo dei tifosi e che dà una marcia in più alla squadra che andrà a vincere il campionato a fine campionato lui gli dice c'è il premio ma c'è anche un'altra cifra quanto vuoi per tagliarti quei capelli lui aveva i capelli lunghi lui e un altro che non voleva mai tagliarseli era Gattuso che li aveva fino a qua anche lui ha resistito hanno resistito i baffi di Ramaccioni e i baffi di Bartoletti gli altri è riuscito a tagliarli tutti perché lui diceva che non poteva vedere i giocatori e poi attenzione la mano sudata lui diceva sempre mettete la mano avete il fazzoletto asciugatevi nei pantaloni e una volta che cosa fece alla convention di non di Forza Italia di Publitalia arrivavano tutti diciamo i venditori di Publitalia i collaboratori non aveva dipendenti lui collaboratori e una signorina dava una boccettina di vetro tipo quei campioncini di profumo che danno nelle profumerie arriva buongiorno signori come va tutto bene vi hanno dato il boccettino di vetro sì dottore bene prendetelo tutti lo tiravano fuori adesso spezzatelo tutti rompevano adesso mettete il liquido sul palmo della mano tutti a mettere il liquido fate così respirate sentite come la bocca sa di buono di profumato voi dovete andare dai clienti con la bocca profumata eh sì che tradotto nel calcio voleva dire per esempio caro Rino questa foto sul tuo armadietto non va bene fatela rifare la foto dell'armadietto di Rino Gattuso che aveva barba baffi e capelli lunghi esatto sì il problema è che Rino non era uno facile no no ha resistito e ha resistito e ha resistito anche o meglio lì non ha resistito sulla spiaggia di Marbella ah sì si è arrabbiato perché il presidente ha incominciato ma non era mi sembra che non era già più il presidente e no perché Gattuso era dopo dopo il cambio di protezione ha incominciato a dirgli che non andava bene tatticamente il Milan eccetera allora Rino Gattuso non lo faccio perché qui non è il caso si è arrabbiato ha preso il telefono l'ha lanciato in mare il mare ha dovuto Michele Persichini che era il cuoco di Milanello ricomporre questo dissidio e a Milanello dove c'è un episodio che racconto molto rapidamente avevano il presidente numero unissimo della General Motors e il cameriere gli fa cadere la tarta ten su camicia e cravatta e allora lui su giacca e cravatta allora quello si toglie la cravatta e il presidente fa abbiamo la lavanderia qua e per metterlo a suo agio cosa fece? Quello aveva le bretelle esco un attimo è andato in camera è tornato con le bretelle senza cravatta per mettere a suo agio il presidente della General Motors senza dimenticare per esempio da presidente non solo quando si fa male Riccardo Montolivo costretto a saltare un mondiale lui si presenta alla clinica sempre i migliori medici sempre cure immediate e medici che devono avere sempre il camice allacciato perché Van Basten si fa male vanno all'ospedale di Bustarsizio lui accompagna Van Basten aveva fratturato lo zigomo arriva un dottore col camice allacciato guardimi scusi il mio giocatore lei lo visita ma si allacci il camice si allacci il camice andò a trovare Riccardo Montolivo che si procurò la frattura della tibia la clinica la madonna persa la nazionale esattamente un'ora di visita cioè non era la visita sì ciao come stai ma c'è altro da fare o per esempio e non era già presidente del Milan quando l'Italia vince l'europeo l'ultimo europeo con Gigio Donnarumma nel 2021 che in quell'estate era in Sardegna lui lo chiama e gli dice Gigio vieni a trovarmi a Villa Certosa che diventava un po' sì casa sua ma casa di tutti quelli che lo andavano a trovare e anche lì disse a Ibraimovic tu appena hai finito la carriera io faccio lo sceneggiatore tu fai l'attore facciamo un film ma tu devi fare l'attore con quella faccia e invece la storia i grandi giocatori Nesta l'acquisto di Nesta ecco e io parto da questa frase che entra un po' nella storia di quel Milan la vediamo insieme questa frase qui presidente dice Gagliani io come amministratore delegato del Milan sono equiparato a un ministro perché gli feci quella domanda perché Silvio Berlusconi era a Copenaghen per impegni da primo ministro e Ancelotti chiese Nesta ad Adriano Gagliani e a Silvio Berlusconi se mi prendete Nesta vinciamo la Champions League ma Cragnotti chiedeva 31 milioni 62 miliardi 62 miliardi il presidente aveva in testa ancora la lira quindi faceva sempre il raffronto costa troppo Gagliani con Cragnotti aveva tutto fatto però aveva in televisione che cosa Adriano Gagliani l'intervista di Silvio Berlusconi che parla dei suoi ministri se non sporano il budget i miei ministri hanno carta bianca Adriano Gagliani e noi lo immaginiamo esattamente così lo chiama in fretta e furia e dice quindi presidente io come amministratore delegato del Milan sono equiparato a un ministro la risposta non la sappiamo bene mettere tra virgolette ma sembra un sì l'ultimo giorno di mercato con una Roma senza energia senza elettricità Nesta non sapeva niente si ritrova sul giornale il Milan ha acquistato Nesta con il Milan che raggiunge la Champions League che era già elemento fondamentale Nesta che è diventato l'allenatore del Monza Monza che il Milan che il presidente Berlusconi prende in una sera quando Adriano Gagliani dice guarda che il Monza è in vendita lui tradizionale pranzo del lunedì tutti vedono che si brillano gli occhi a Silvio Berlusconi forse gli possono dicendo sì gli possono fare un grande regalo e allora gli dice allora vai e prendilo e lì c'erano gli spaghetti di Persichini di Michele che sono raffreddati perché lui è andato a prendere il Monza Eh sì Adriano Gagliani narra che era quasi non voleva quasi guardarlo diceva fate voi perché la risposta di Adriano Gagliani sarebbe stata scontata lascia lo spaghetto ma no Adriano c'è tempo non ti preoccupare tra l'altro Silvio Berlusconi che acquista il Monza da Nicola Colombo figlio di Felice Colombo anche qui è un cerchio che si chiude e lo prende il 28 settembre quando il 29 settembre è il suo compleanno e il 29 settembre ha acquistato il terreno di Segrano perché non il 29 settembre perché era un sabato e quindi notai non potevano altrimenti sarebbe stato il 29 settembre ma Silvio Berlusconi ha sempre nel cuore il Milan e quando il Milan vince il campionato prende mano nella mano Marta Fascina e vanno all'Arengario dove c'è la grande festa e vai a leggere che cosa succede sì perché all'Arengario adesso lo trovo guarda te lo vado a vedere io sì eccolo qui lui eccolo qui va all'Arengario e incontra Paolo Scaroni che conosce da tanto tempo per favore Paolo mi fai conoscere Paul Singer lui era alla festa ha salutato faceva da presidente ha salutato si è affacciato come abbiamo detto prima certo ma perché lo vuoi conoscere vorrei rientrare nel Milan confessa con un sorriso sì magari posso comprare il 20 o il 25% del pacchetto azionario a due condizioni però io presidente e Adriano Galliani amministratore delegato passa un anno le condizioni di Silvio Berlusconi si aggravano di quella serata scusami Carlo oltre alle immagini che abbiamo prima raccontato di lui che si affaccia all'Arengario con Piazza del Duomo che gli che gli dedica più di un coro c'è Zlatan Ibrahimović che va dai compagni più giovani e dice loro vai a salutare il presidente presidente sì certamente perché era come il presidente e il presidente aveva un crucio molti non lo sanno io mi auguro che la seconda stella del Milan che prima o poi il Milan vincerà speriamo da tifoso del Milan la prossima stagione sia dedicata al presidente Berlusconi perché lui ci teneva alla seconda stella e voglio leggere l'ultima pagina del libro abbiamo tempo dimmi tu le cuore le cifre le cifre dei dei prima del ricovero a San Raffaele vuole entrare accompagnato da Marta ancora una volta al bar di Milano 2 davanti al laghetto si siede per mangiare un ghiacciolo ricordate quel venerdì ci sono delle immagini in silenzio guarda la sua statua mentre gli passano davanti i tanti cari ricordi legati a quel luogo gli sembra di vedere la sagoma di Claudio Cecchetto il suo primo personaggio imponente nella televisione che discute con Mai Buongiorno Paolo Taveggia e i popi bonnici che parlano della coppa d'oro il ghiacciolo si scioglie troppo presto deve andare il sabato e la domenica riceve le visite dei familiari e degli affetti più cari Berlusconi lui mancherà il lunedì quindi era quella domenica certo Berlusconi parla poco ma sorride pura fatica poi volge loro lo sguardo e prendendo la mano di Marta mormora con un filo di voce però come sarebbe bello se riprendessimo il Milan e così si chiude il libro così si chiude il libro e così si chiude anche la vita calcistica e non solo di Silvio Berlusconi ha testimonianza e dimostrazione una volta di più di quanto il Milan fosse per lui una questione di cuore di cuore esatto una questione lo ha sempre ribadito questo concetto sono 223 pagine molto belle ricche di storie di aneddoti purtroppo apparentemente irripetibili perché qui penso che ci sia la summa poi ci sono altri libri che parlano di cose magari più importanti perché noi ricordate sempre il calcio è la cosa più importante delle meno importanti 17,90 euro Cairo Editore lo trovate in libreria ovviamente c'è solo un presidente con Peppe Di Stefano doveva esserci impegnato dovremmo anche avere magari una foto di te e Peppe se riusciamo a recuperarla questa intanto è la copertina grazie alla regia ecco qui Carlo Pellegatti Peppe Di Stefano collega collega di Sky e sono quattro mani che hanno che hanno ripercorso nero su bianco una storia di calcio era stato interpellato dopo il libro Milanello da Cairo Editori Peppe è stato molto gentile e ha detto ma io conosco Silvio Berlusconi l'ultimo Carlo conosce il primo e allora ci siamo messi insieme insomma c'è solo un presidente Silvio Berlusconi chi meglio di Carlo Pellegatti per raccontarvelo grazie Carlo e mi auguro che vi piaccia che vi emozioni la storia del presidente la storia del Milan e la storia del calcio perché il presidente Berlusconi è stato il presidente di una squadra che ha fatto la storia del calcio e tanti appassionati hanno ammirato anche da tifosi avversari questo Milan storie di Milan storie di calcio storia irripetibile di Silvio Berlusconi che trovate in questo libro che abbiamo ripercorso insieme grazie per averci seguito grazie Carlo e grazie a voi per l'ospitalità e buona continuazione sulle nostre reti grazie a tutti